Bentornati amici cattolici, nuovo video dove esploriamo serie poco conosciute ma che a mio avviso meritano di essere recuperate. Questa volta l'anno è il 1965, anno molto fortunato per quanto riguarda la produzione televisiva, visto che ha visto al debutto serie come Gli eroi di Hogan, di cui c'è un video sul canale, Strega per amore, sempre il video sul canale, JetSmart, video sul canale e un sacco di altre serie di cui faremo un video sul canale. Ora però concentriamoci su quelle cosiddette serie minori, anche se a questo giro ci sono delle chicche che levati. Però come sempre, prima vi tocca peccarvi la sigla. La prima serie di cui vi voglio parlare è una serie iconica per dei nerdacchioni dei telefilm come me. Una serie non americana, non inglese ma tedesca. È la serie più costosa in relazione al periodo storico mai prodotto in Germania. Una serie che ha anticipato, anche se di pochi mesi, temi e format, se così possiamo dire, di uno dei telefilm di fantascienza più famosi del mondo, ovvero Star Trek. Sto parlando delle avventure dell'astronave Orion. La serie racconta di un futuro, il 3000, dove la Terra ha un governo unico, si sposta nello spazio a velocità superiore a quella della luce, ed è in guerra con una razza aliena chiamata Frog. La Orion è un incrociatore spaziale a forma di enorme disco volante, comandato dal maggiore Cliff Alistair McLean, tipino sanguigno e poco incline a rispettare gli ordini dei superiori. Come vedete, le somiglianze con Star Trek sono incredibili, eppure nessuno ha rubato nulla a nessun altro. Roddenberry e Rolf Honnold hanno lavorato quasi in contemporanea a due progetti che di fatto erano separati ma identici. E il fatto che la Orion sia di qualche mese più vecchio di Star Trek è irrilevante, visto che per lavorare a un prodotto del genere ci vuole almeno un anno. Sta di fatto che però la Orion è un telefilm incredibilmente visionario e avanti rispetto al 1965. Per esempio, tutti i termini tecnici, le armi e i soggetti tecnologici, sono stati inventati di sana pianta in tedesco. Quindi abbiamo l'Astrodisk, io ve li dico nella traduzione italiana che, se poi inizio con le pronunce tedesche, stiamo belli che freschi. Schermo tridimensionale che viene proiettato in mezzo al ponte di comando e che è il corrispettivo dello schermo sul ponte dell'Enterprise. Le batterie luce, che sarebbero i laser, arma usatissima nella serie, termine che descrive sia quelle montate sull'astronave che quelli portatili usati dai membri dell'equipaggio come armi da combattimento. Poi ci sono i dispositivi da polso ASG che, rispetto al trycorder di Star Trek che ricorda un cellulare, questi ricordano uno smartwatch. La serie, nonostante il budget imbarazzantemente a basso rispetto a una produzione americana, riesce comunque ad essere piuttosto credibile nella messiscena. E purtroppo, nonostante l'enorme sforzo produttivo, i tedeschi sono riusciti a produrre solo 7 episodi, ma tanto sono bastati alla serie per renderla leggendaria in patria. Fate conto che le avventure della Orion sono continuate in una serie di romanzi popolarissimi in Germania che, ad ora, contano ben 140 libri diversi. E ora veniamo alle cose belle. Se vi ho incuriosito e vi viene voglia di guardarvela, beh, nulla di più facile. Su YouTube si trovano tutte le puntate anche in lingua italiana. E poi, se vi viene voglia di acquistare i DVD, la versione tedesca ha anche la traccia in italiano. Beh, meglio di così non si può, no? Il secondo telefilm di cui parliamo è Il Cavaliere Solitario, western prodotto da Rod Sterling dopo la chiusura di Ai Confini della Realtà. Ve lo segnalo perché è un western estremamente diverso dai tipici telefilm del genere che all'epoca erano prodotti in massa. Sterling, infatti, era schifato dalla rappresentazione piuttosto abborracciata del periodo storico e dalla messa in scena molto discutibile del West nelle serie TV e quindi decide di produrre un western storicamente più accurato e verosimile. Quindi nasce questa serie in cui il protagonista William Coulson, ex capitano di Cavalleria dell'Unione, dopo la guerra che lo ha visto vittorioso, viaggia verso l'Ovest alla ricerca di un posto dove reiniziare una nuova vita. Purtroppo, però, questa versione realistica del West non ha incontrato i favori del pubblico dell'epoca e la serie non ha mai visto una seconda stagione. La terza serie da recuperare è Riviera Police, una delle rarissime coproduzioni anglo-francesi. È un poliziesco ambientato in Costa Azzurra dove una task force mista di poliziotti francesi e inglesi è impegnata a risolvere casi che colpiscono il jet set. La serie, partita con grandi aspettative e ascolti molto alti inizialmente, sembra proseguire bene, poi, dopo una sola manciata di puntate, ha un tracollo negli ascolti molto rapido e quindi viene chiusa. La cosa triste è che, nel pieno rispetto della moda dell'epoca, che prevedeva di riciclare i nastri magnetici che erano costosissimi, anche questa serie è andata parzialmente distrutta. Allo stato attuale si trovano solo quattro puntate delle 13 messe in onda, ma sono comunque recuperabilissime. La quarta serie di cui parliamo è Vacanze a Lipizza. Lo so, il titolo vi ha fatto storcere un po' il naso. Nel mondo è universalmente conosciuta con il titolo inglese, ovvero The White Horse, perché si è guadagnato un posto nel video? Primo perché è una coproduzione jugoslavo-tedesca e io di serie Jugoslave ancora non ne avevo mai parlato e quindi mi piaceva parlare in una volta. Il secondo motivo è che la serie è diventata famosissima in Inghilterra. Motivo per cui, se la volete recuperare, è la versione inglese, quella a cui dovete mirare. E poi c'è un motivo bonus. La serie è il perfetto contraltare di furia, dove al posto del più nero che c'è, c'è uno stallone bianco come la neve e intelligentissimo. L'amministrazione, che si intuisce dal titolo, è slovena. Sembra molto diversa da quella americana, ma in verità è molto simile. C'è un ranch, ci sono dei delinquenti che insinuano i cavalli e l'ambiente rurale semplice e onesto che caratterizza la serie è identico esattamente a quello di furia. Altro parallelismo con furia è la sigla. La versione inglese, che contribuì non poco al successo in patria, fu uno dei dischi più venduti del 1968 in Inghilterra ed è stato eletto dalla critica inglese come la miglior sigla televisiva della storia inglese. La serie è recuperabilissima, ovviamente in inglese sul tubo. Io, personalmente, sul fatto che la sigla sia la più bella di sempre, ho qualche perplessità, ma voi ascoltatela pure, poi ditemi nei commenti quello che pensate. La quinta serie di cui vi voglio parlare è Le cause dell'avvocato O'Brien. Classico ligero drama dove un avvocato idealista e squattrinato risolve casi per evitare che i suoi assistiti finiscano al gabbio. Assistiti che ovviamente sono sempre poveracci. Tutto questo aiutato dalla bellissima assistente e, se si può dire, intracciato dalla sua ex moglie. La serie è assolutamente da recuperare per un unico e solo motivo. Il protagonista è Peter Falk. Purtroppo, la serie prodotta dalla CBS è stata chiusa dopo una sola stagione. Nonostante questo, a farti in tempo è infilare una serie di star di pregio da fare invidia a tre film ben più blasonati. Nella serie sono comparsi Robert Blake, David Carradine, Gene Hackman, Angela Lesbury, Roger Moore e persino Martin Sheen. Ultima curiosità, in diverse interviste Peter Falk ha dichiarato di preferire di gran lunga questa serie alla ben più famosa Colombo. L'ultima serie di cui vi voglio parlare è Hank. Sitcom, anche se il termine è riduttivo, che racconta la vita di Hank, ragazzotto rimasto orfano e con una sorella da mantenere che, conscio che l'istruzione e la formazione personale sono la base del successo, decide di frequentare illegalmente la Western State University mentre contemporaneamente sbarca in l'orario vendendo pranzi con il suo furgoncino proprio agli studenti dell'università. Tutto il motore narrativo e comico ovviamente ruota intorno al non farsi scoprire grazie anche all'aiuto al professor McKillop che, magheggia con i registri, riesce a frequentare le lezioni. A complicare ulteriormente la cosa c'è anche il fatto che Hank ha una storia con la figlia del responsabile della lista degli studenti che, ovviamente, ha tra i vari compiti anche quello di beccare chi frequenta l'università a sbafo. Serie molto ben fatta, mai retorica e con un grandissimo pregio nonostante sia durata solo 22 episodi ha un vero finale. Nell'ultima puntata, infatti, alla fine Hank viene scoperto e, soprattutto, grazie al fatto di aver ottenuto un voto troppo alto rispetto allo studente che impersonava. Il rettore, però, impressionato dalla voglia di imparare dai risultati del ragazzo, alla fine gli concede una borsa di studio. Bene, questo è tutto. Spero di avervi incuriosito e buona caccia. Come sempre, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo da non perdervi i prossimi. Se poi volete sostenermi in maniera più diretta c'è sempre la possibilità di iscrivervi al canale quindi accedendo a una serie di benefit la visione in anteprima dei nuovi video la possibilità di scegliere insieme a me i prossimi titoli di cui parlare e un canale Telegram esclusivo dove potete interagire con me e con il resto dei Fantastici 4 più 1. E poi, se volete che parli del vostro telefilm preferito scrivetemelo pure nei commenti.